Una piattaforma cloud in cui saranno disponibili in streaming videogiochi a cui si potrà giocare direttamente da qualsiasi dispositivo, pc, tablet, tv, cellulare, senza necessità di avere una console dedicata. La piattaforma si chiama Stadia ed è stata presentata da Google che mostra così la sua idea sul futuro dei videogame. Il CEO di Google spiega come funziona. Pensate ai giochi adesso, attualmente ci sono molte barriere che impediscono agli utenti di giocare ad alto livello. Un'ottima grafica richiede console o pc adeguati e non c'è un accesso istantaneo ai titoli. Pensate invece a come funziona il web. Si possono facilmente condividere link e funziona perfettamente. Vogliamo che i giochi siano in questo modo, accessibili immediatamente per tutti. Tutto pronto per la prima edizione di Cypher Games Capture the Flag on Trial, competizione tra hacker etici organizzata da Cypher Gate che si svolgerà il 6 maggio presso la sede di via Tiburtina di Elettronica Group e che coinvolgerà team di università e istituti tecnici italiani ma anche team stranieri. La squadra italiana vincitrice avrà la possibilità di rappresentare l'Italia al prossimo Cyber Defense Discovery Camp di Singapore. Nel corso della giornata i partecipanti avranno l'opportunità di affrontare con il proprio team una gara stimolante divisa in due sessioni di gaming sul framework. Furto di dati informatici ad un'azienda. Un circuito elettronico innovativo in grado di risolvere calcoli complessi ad una velocità finora mai raggiunta non solo dai più potenti computer digitali classici ma anche dagli avveniristici computer quantistici. Un risultato ottenuto dal Politecnico di Milano che rivoluzionerà l'intelligenza artificiale, un campo in cui è fondamentale che i sistemi imparino e prendano decisioni molto velocemente. Come funziona lo ha spiegato ad Ascanews Daniele Yelmini, docente del Politecnico. Si tratta di una nuova tecnologia che consiste in un circuito di calcolo in memoria. Quando noi facciamo un'operazione qualsiasi con un calcolatore digitale l'operazione viene fatta in un'unità di calcolo prendendo i dati dalla memoria e poi rimettendo nella memoria i risultati del calcolo. In questo caso invece vogliamo sovvertire questo concetto di calcolo facendo le operazioni direttamente nella memoria.